Tra poco il notiziario di ETV, tutti i fatti, la cronaca e la politica della tua città. I dati Auditel certificano ancora ETV Rete 7 come la prima televisione in Emilia Romagna. ETV Rete 7, da 37 anni, un'amica di famiglia. Buongiorno, buongiorno e benvenuti a questo appuntamento con l'informazione di ETV Bologna. In apertura della cronaca, come abbiamo già anticipato nel nostro notiziario di ieri sera, c'è stato un altro episodio di violenza in zona universitaria. Un trentenne ha riportato la frattura della mascella in seguito ad una rissa. La vediamo. Un trentenne italiano aggredito vicino a Piazza Aldrovandi, sabato notte, intorno alle 23.30. Il ricovero ieri pomeriggio al politico Sant'Orsola. Per lui, frattura alla mandibola, 30 giorni di prognosi. Un altro episodio violento, come anticipato ieri sera nel nostro telegiornale, in zona universitaria, sul quale sta indagando la squadra mobile della Questura. Probabilmente un'aggressione per futili motivi. Forse è stato avvicinato con la scusa di una sigaretta. Venerdì notte, poco distante in via Petroni, era stato accoltellato all'addome un ventenne di origine marocchina. L'aggressore è ancora ricercato a fare il punto sulle indagini suoni carabinieri, a margine di una conferenza stampa in Questura, in cui sono stati presentati gli esiti di accertamenti mirati eseguiti sabato sera nelle zone della Movida. Siamo intervenuti immediatamente, abbiamo fatto le solite attività investigative, stiamo cercando di identificare il soggetto o i soggetti che si sono responsabili di quest'azione delittuosa. Abbiamo chiaramente già indirizzato le nostre attività investigative verso un'ipotesi che speriamo possa essere confortata dalla raccolta di elementi di prova che ci possano consentire di identificare e capire anche quello che è successo. Polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale hanno partecipato al maxicontrollo. 465 le persone identificate e controllate, 195 gli accertamenti sui Green Pass. Controllate anche le attività, chiuso un circolo in via Capodilucca per un assembramento di persone e anche un negozio in zona Pratello, aperto oltre l'ora stabilita. Sequestrate 80 bottiglie di birra da un venditore abusivo e una cassa Bluetooth dalla quale veniva riprodotta musica a tutto volume in strada. Un impegno di squadra che ha visto in campo parecchi uomini delle forze di polizia e della polizia locale che ha dato i risultati, secondo me, giusti, opportuni, visto che c'è stato un controllo di numerose persone, di attività commerciali. Ci sono state anche svolte delle attività di polizia amministrativa finalizzate alla chiusura di locali, in particolare in un circolo privato in una zona più volte segnalato dagli utenti e comunque dai risidenti. E poi un'attività che ha tolto di mezzo, un diffusore acustico, insomma tutta una serie di attività di polizia e di prevenzione che servono, secondo me, a garantire quel vivere quieto tra i ragazzi che vogliono passare la serata del sabato nel centro storico della città. I fenomeni vanno sempre governati, l'impegno c'è, l'attività si svolge, è chiaro, è un impegno non da poco perché è un'attività che impegna tantissimi uomini e tantissimo tempo, però l'attività di prevenzione è fondamentale nei fenomeni sociali di questo tipo. È ancora cronaca, è ancora ricoverato in progliosi riservata all'ospedale maggiore di Bologna, un giovane che ieri pomeriggio ha rubato uno scooter andando poi a schiantarsi contro un'auto parcheggiata. Il giovane, dopo aver sottratto il mezzo di un 63enne che stava ritirando contanti al banco, ma nella fuga si è scontrato con un'auto, ferma. Ultima pagina, cambiamo argomento. Sul fronte del caro Energia c'è unità di intenti tra il sindaco di Bologna Matteo Lepore e i parlamentari eletti nel nostro territorio. Si parla di azioni comuni per sensibilizzare il governo sul sostegno agli enti locali, alle famiglie, alle imprese, al terzo settore. Vediamo. Non si ferma l'iniziativa del sindaco Lepore, per quanto è nelle sue mani, per dare voce alle preoccupazioni dell'amministrazione locale ma anche dei cittadini e imprese per il caro Bollette. Questa mattina il primo cittadino di Bologna e della città metropolitana ha incontrato i parlamentari eletti nel territorio bolognese per presentare le richieste che giovedì della scorsa settimana hanno spinto circa 3.000 sindaci in tutta Italia a spegnere simbolicamente le luci dei monumenti più rappresentativi per sensibilizzare il governo sul caro Bollette e in particolare per sottolineare le pesanti ripercussioni su enti locali, famiglie e imprese. All'incontro di questa mattina erano presenti i parlamentari Andrea De Maria, Francesco Gretelli e Daniele Manca per il Partito Democratico, Galeazzo Bignami di Fratelli d'Italia e Michela Montevetti per il Movimento 5 Stelle. Un incontro molto proficuo, ha detto al termine il sindaco Lepore, nel corso del quale è stata condivisa la richiesta al governo di un fondo per sostenere l'impatto dell'aumento dei costi dell'energia sugli enti locali, anche al fine di scongiurare il conseguente riverbero su famiglie e imprese, così come la proposta di utilizzare i comuni come soggetto gestore di parte delle risorse da destinare immediatamente alle fasce più fragili della cittadinanza per sostenere l'impennata dei costi dell'energia sul modello di buona spesa. Lo stesso meccanismo, aggiunge Lepore, dovrebbe essere pensato anche per il mondo del terzo settore, così importante per la nostra comunità. Il sindaco e i parlamentari hanno anche condiviso l'urgenza dell'intervento del governo per evitare che il costo dell'energia e l'inflazione portino al fallimento di diverse piccole e medie imprese del territorio, allo stop delle attività di molte associazioni che si occupano del bene comune e a disagi insostenibili per le famiglie in difficoltà. È stata infine condivisa la costituzione di un tavolo permanente tra il sindaco metropolitano e i parlamentari eletti nel territorio, non solo per affrontare l'emergenza della crisi energetica, ma anche per condividere questioni più strategiche e la messa a terra del PNRR. Dopo l'incontro di questa mattina, il tavolo sarà convocato periodicamente. E si è parlato di effetti a lungo termine del Covid questa mattina all'ospedale Maggiore. Vediamo cosa è detto. L'esperienza di questo ambulatorio nasce in realtà dalla richiesta dei cittadini, cittadini che hanno avuto una degenza nei nostri reparti intensivi di una settimana o più, quindi degenze per malattie sicuramente gravi, per forme sicuramente gravi di Covid, e la loro esigenza nasce dal fatto di soffrire appunto di disturbi a lungo termine derivanti da questa grave patologia, disturbi di carattere respiratorio, di carattere fisiatrico e riabilitativo e anche di carattere psicologico. Per cui l'idea è stata quella di provare a inventarci e a fondare un ambulatorio che potesse dare una risposta unica a queste persone, evitando il giro fra più specialisti. Cerchiamo noi questi pazienti e chiediamo a loro l'esigenza e la disponibilità di entrare in questo percorso. Fissiamo un appuntamento e li vediamo in maniera congiunta, cioè in queste visite sono presenti contemporaneamente più specialisti, in particolare è presente il fisiatra, lo pneumologo, lo psichologo e l'anestesista rianimatore. L'età media direi fra i 60 e i 70 anni circa. È molto interessante perché riscontriamo quelli che sono i dati della letteratura, quindi delle pubblicazioni che sono già state analizzate, che quindi circa il 40% dei pazienti a distanza di tempo, a distanza di mesi, presentano degli esiti neurologici che vanno dal lieve anche al molto disabilitante, cioè quindi l'impossibilità anche a camminare ed essere autonomi nella vita quotidiana. Lo spettro di pazienti e di esiti sono vari, dal paziente che ha un deficit nel cammino perché non riesce ad attivare determinati gruppi muscolari, alla fragilità per esempio anche nelle attività della vita quotidiana, quindi l'alzarsi, il vestirsi, diventa un problema nella quotidianità perché fatica, stanchezza, difficoltà di concentrazione sono degli elementi comuni che emergono dalle valutazioni che stiamo portando avanti. Ultima pagina, cambiamo decisamente argomento, 14 febbraio, oggi festa degli innamorati, noi siamo andati a vedere come i bolognesi passano questa ricorrenza. Amor, canullo amato, amar, perdona. È il canto quinto dell'inferno, riferito alle figure degli amanti per eccellenza, Paolo e Francesca, coloro che hanno amato tanto in vita fino alla morte, uccisi dal cornuto, gianciotto, malateste che continuano ad amare anche nel girone purtroppo dei peccatori carnali o lussuriosi sui socials, diremmo porcelloni. Per dire che comunque il giorno di San Valentino, il giorno degli innamorati, per eccellenza in qualche modo può essere una festa, ma anche fonte di problemi infernali, cioè bisogna in qualche modo fare qualcosa. Per esempio la signora sta sfogliando il giornale per vedere dove c'è del bello questa sera. No grazie, del bello no, io sono qua che sto aspettando mio marito che è dato dal dentista. Valentino, vado a cena con una donna. Il signore va a cena con una donna, tu invece stai... Ah, io vado col pennello. Col pennello? Col pennello, sì. Ceni col pennello? No, spero di no. Adesso ci dai di pennello, però... Ci dai di pennello, poi dopo stasera speriamo di andare. C'è chi ci dà di pennello, chi come lei invece di spatola, però... Cioè sta spatolando? Guardi, va bene, stiamo a posto così, va bene. Per San Valentino che cosa facciamo? Tanti auguri a tutti innamorati. Ok, per San Valentino che cosa fa? C'è la borsa? Lavoro. Ah, ok. Sta scappando in Svizzera? Magari! C'è l'amore, c'è ogni giorno, allora ogni giorno è San Valentino. State assieme, no? No, 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 vabbè, vabbè. Sono antiche. No, perché no? Non si chiama Drusilla lui. No, ok. C'è qualcuno che il giorno di San Valentino è venuto a ordinare l'abito da sposa? Oggi ci stanno chiamando in tante, perciò sì. Sì, si vede che l'amore comunque ha smosso qualcosa. Le tre grazie, grazie Graziella e grazie a San Valentino che tutte e tre sono qui, che stanno diciamo in qualche modo a umma a umma per organizzare un San Valentino con i fiochi, con i loro fidanzati, perché non avete un cane con cui no? Un cane sì. Un paccone, perché non è roba per San Valentino? No. Per cos'è? Per cavoli miei. Non vorrei che accadesse che dopo si deve limonare magari con qualcuno alla fine della salata. Ma uno si accontenta per una sera. Chi c'è c'è. Chi c'è c'è, esatto. Questi due ragazzi soli stanno cercando appunto, stanno scorrendo come dei siti di annunci per vedere se andare a sera si cucca qualcosa, perché diciamo gli accomuna la disperazione. Siamo appena arrivati però, siamo appena arrivati a Bologna. Fiori, mamma mia, ma chi li... beh per San Valentino, che mazzoni. Io li porto solo. Ah ok, ambasciatore porta fiori ma non pene. San Valentino. I forgot about San Valentino. Ah, 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 ricordate, bacio, 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 bacino, 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 bacino. Abbiamo già dato. E la tradizione vuole che a San Valentino si regalino le rose, ma quest'anno il mercato è stato soffocato dalla crisi energetica. Vendita in caro anche a Bologna, dove però gli studenti delle scuole si sono inventati una iniziativa simpatica per celebrare il patrono degli innamorati, se ne ha occupato Luca Doristano dei fiori di luna. Vediamo. Come va quest'anno? È il secondo anno di pandemia, il mercato, i bolognesi regalano le rose? Drammatico, drammatico l'aumento, il moltiplicatore per 5 che hanno utilizzato nel gas, nei carburanti, nella luce ha ammazzato completamente tutto il commercio, ma per tutti, dal taxista al ristorante, al bar, alle gelaterie, alle aziende, alle imprese, agli alberghi. Ho parlato con degli albergatori, con dei più 15 mila. Purtroppo le rose e tutti i fiori vengono tenuti nelle serre, vengono riscaldati, bisogna tenere le temperature a un certo livello, quindi anche tutti i floricoltori che abbiamo a Sanremo, nel Napoletano, nella Toscana hanno avuto dei danni incredibili, un po' di aumento lo si sopporta, ma quello che hanno fatto quest'anno è veramente drammatico. Pensate che noi viaggiavamo alla media di 70-80 consegne con ordini già fatti, fino a tre anni fa, oggi abbiamo otto consegne e oggi non c'è nessuno. Però c'è un dato positivo che arriva dalle scuole bolognesi, una simpatica iniziativa degli studenti, dei ragazzi. Bellissima, bellissima iniziativa, devo fare complimenti a questi adolescenti. Oggi in due scuole, in particolare il liceo Copernico e il liceo Righi, hanno allestito all'interno dei loro auditorium dei banchi con le rose, uno studente si reca, chiede un numero di rose X da consegnare alla propria amica amorosa fidanzata a Morino e un altro studente le porta nella classe di riferimento e le consegna alla ragazza. Infine lo sport, il calcio, si spacca la tifoseria del Bologna. Ieri a Casteldebole sono apparsi tre striscioni dal contenuto opposto, firmati da diversi gruppi della curva rosso-blu. Un momento difficile per l'intera squadra che attende in settimana l'arrivo di Saputo. Vediamo. C'è tensione nell'area di Casteldebole. Non solo i 4.9 gare a tormentare i pensieri del Bologna, ma anche i messaggi di alcuni gruppi del tifo organizzato. Ieri, davanti alla casa del Bologna, sono apparsi tre striscioni dal contenuto diametralmente opposto. Nel pomeriggio è apparso un lungo telo bianco, firmato Cappotati e Vecchia Guardia 74, con un messaggio più che esplicito. E se il 29 settembre quest'ultimo gruppo della curva aveva contestato tutto il Bologna, ad esclusione del chairman Joy Saputo, questa volta nessuno sfugge alla contestazione. L'azionista canadese sarà in arrivo sotto le due torri in questa particolare settimana per vivere in prima persona il momento delicato di gestione. Saputo sarà in tribuna lunedì sera contro lo Spezia, due mesi dopo l'ultima uscita a dicembre contro la Juventus. Accanto al telo più grande, anche il centro Bologna Cleps ha firmato un messaggio «Svegliatevi tutti!», recita il lenzuolo a conferma del fatto che da questa prima contestazione il bersaglio fosse il Bologna dalla A alla Z. Dopo il tramonto, però, i primi due striscioni non erano più presenti e davanti ai cancelli di Casteldebole è apparso un telo a supporto del Bologna firmato Maidomi e Settore Ostile, che manifestava il disaccordo rispetto ai messaggi precedenti. Una differenza di vedute all'interno della stessa tifoseria a testimonianza del periodo di estrema difficoltà che l'ambiente rosso-blu sta vivendo negli ultimi due mesi. Ed è tutto, appuntamento alle prossime edizioni del nostro telegiornale. Buon pomeriggio a tutti. Da oggi l'informazione di ETV Rete7 è disponibile gratuitamente sul tuo smartphone e potrai accedere a tutte le video news prodotte nel corso della giornata in tempo reale.